Ma io ve la dico, l'ho saputa così, non ho ancora la certezza ufficiale, ho parlato con la stessa consigliera Erika Baldini praticamente dieci minuti fa, ho avuto altre conferme, non c'è ancora l'ufficialità, non c'è un documento, ma sembra che il ricorso dell'Erika Baldini, candidata alle regionali, sia passato e ve lo dico proprio con gioia, dovremmo avere tre consiglieri regionali. Voi sapete che come Chioggiazzura ci siamo spesi fino all'inizio per il voto ai candidati locali e se questo veramente abbiamo fatto bingo, siamo riusciti veramente, non dico che sia merito di Chioggiazzura assolutamente, però insomma è un contributo penso che ci sia riconosciuto e l'abbiamo fatto. Abbiamo tre, avremo tre consiglieri regionali di Chioggia, un risultato eccezionale per la nostra città, tutti quelli che sono negativi su queste cose che si vadano a nascondere, scusatemi, io sono veramente contento perché insomma, come dicevamo anche questa mattina in rassegna stampa con l'ingegnere Achille Cester e l'assessore Alessandra Penzo, è giusto diciamo che si vada incontro alla volontà popolare. L'Erica Valdini ha sul classato il candidato 5 Stelle alla presidenza della Regione Veneto, ha avuto una strage di preferenze come per carità anche Benanino, ma comunque voglio dire nel caso suo ha avuto veramente un numero di preferenze altissimo e quindi sarebbe, vi dico sempre con condizionale, sarebbe stata premiata la volontà degli elettori. Chioggia ha, speriamo, tre consiglieri regionali, vi lo dico veramente con una grandissima gioia. Complimenti Erika, speriamo aver presto una conferma e avanti tutta.